ciao a tutti e bentornati su fortnite vediamo questo carico di magneto per sbloccare altri simparatici omaggi allora configura segnalatori per fenditura è molto semplice vedete questi tre punti sulla mappa dovete andarci se ce la fate anche in una partita sola allora il primo lo trovate esattamente qua sono questi quasi qua con il segno del wifi lo attivate e voilà incontro e si incarico completato date la mappa e poi posizionate sugli altri e andate a farli niente è tutto mi raccomando lasciate like iscrivetevi al canale eccetera 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 bella lì